Allora, come già anticipato, oggi iniziamo a parlare di casi d'uso Casi d'uso che sono una delle possibili rappresentazioni per i requisiti funzionali o per una buona parte dei requisiti funzionali, perché in realtà non si possono applicare a tutti i requisiti funzionali ma solo a quelli che coinvolgono l'interazione con l'utente quindi in qualche modo siamo all'interno del documento dei requisiti di cui abbiamo parlato giovedì scorso e in particolare, quella che avevamo nella nostra ipotetica scaletta del documento dei requisiti avevamo indicato punto 3, l'elenco dei casi d'uso supportati dal sistema quindi questo punto 3 in generale potete leggere requisiti funzionali di sistema nel nostro caso dei requisiti funzionali li modelliamo attraverso questa notazione dei casi d'uso che vedremo sarà composta di due metà di due parti una prima notazione grafica per andare a individuare quali siano i casi d'uso e descriverli a diversi livelli di dettaglio almeno due che chiameremo summary e user goal e poi alla quale si affiancherà poi una notazione testuale una narrativa che serve a descrivere meglio come si svolge il caso d'uso ma andiamo con ordine partiamo dall'inizio i casi d'uso quindi vanno a mettersi ad aggiungersi ai diagrammi e ai modelli che già abbiamo iniziato a costruire cioè i diagrammi concettuali per rappresentare i dati e i diagrammi dell'attività per rappresentare i processi a questi aggiungiamo appunto i casi d'uso i casi d'uso l'abbiamo scelto perché tutto sommato tra le varie formulazioni che sono adatte ad esprimere i requisiti funzionali è relativamente intuitiva relativamente facile da comprendere come sempre dietro un'apparente semplicità c'è poi la complessità ma quello che l'abbiamo visto anche nei diagrammi dell'attività nei modelli concettuali a un livello superficiale li può comprendere anche l'utente ricordiamoci sempre che i documenti requisiti deve essere comprensibili almeno nella parte iniziale dagli utenti ma poi in realtà contengono molta più informazione di quanto non sempre sono chiaramente cose che sono state introdotte quindi parla dell'inizio degli anni 90 come primi tentativi e poi nel percorso di formulazione dell'UML sono state poi assorbite e inserite anche nell'UML e quindi hanno acquisito una connotazione obiettori entri come tutta l'UML che lavora per ereditarietà, per classi, eccetera potenziando chiaramente il formalismo che era stato proposto all'inizio l'idea era quella di all'epoca di iniziare ad avere degli ausili visuali per aiutare le fasi di modellazione e questo si basa sulla definizione sul concetto di caso d'uso o use case che cos'è il caso d'uso? è uno dei modi in cui il sistema può essere usato da parte dei suoi utenti detto in parole povere cioè il sistema informativo promette ai propri utenti che questi utenti potranno fare una determinata operazione quindi non è il singolo bottone che posso schiacciare è un comportamento significativo per l'utente che il sistema deve svolgere in realtà non c'entrano solo gli utenti nella definizione dei casi d'uso ma c'entrano anche gli stakeholder come sono indicati qua caso d'uso è il sistema che si lascia utilizzare da un utente per il beneficio a volte dell'utente stesso ma a volte di qualcun altro di uno stakeholder che può essere diverso dall'utente stesso se tu vai a pagare l'autostrada col Bancomat oppure col Telepass tu sei l'utente ma chi ne trae un beneficio non sei tu utente perché tanto tu comunque paghi e magari chi ha l'autostrada riesce a gestire un numero maggiore di passaggi con un numero minore di persone che devono poi gestire il pagamento manuale quindi non sempre l'utente che usa il sistema è la persona o l'insieme di persone o il gruppo che ne trae il beneficio quindi sono gli stakeholder qui dobbiamo sempre tenere presente i due punti di vista chi ne trae il beneficio tendenzialmente cerchiamo di includere anche l'utente tra questi e l'utente stesso e non sempre gli stakeholder sono gli utenti direttamente del sistema quindi noi descriviamo che cosa fa il sistema in risposta in risposta a un bisogno a una richiesta a una necessità di azione di un utente l'utente in questo contesto lo chiamiamo attore primario chiamiamo primario perché a un certo punto salperanno fuori anche gli attori secondari ma potrebbe essere semplicemente l'attore la terminologia normale è attore primario l'attore primario è un utente che in un determinato istante inizia un'interazione col sistema con lo scopo di raggiungere un suo obiettivo voglio stampare un certificato allora dal momento in cui dico voglio stampare il certificato al momento in cui ho il certificato in mano io articolo una serie di interazioni con il sistema gli utenti col sistema finalizzata con l'obiettivo specifico ottenere quel certificato questo è un caso di uso stampo il certificato non significa faccio un click significa scelgo la funzione giusta scelgo il tipo di certificato allo scarico allo stampo eccetera eccetera quindi una serie di passaggi una serie di interazioni durante i quali l'utente e il sistema si scambiano informazioni insomma il sistema fa vedere l'utente qual è l'elenco di certificati possibili l'utente ne sceglie uno il sistema gli fa l'anteprima l'utente conferma eccetera eccetera possiamo immaginarci in un modo diverso tutte queste interazioni di per sé non sono significative una per una cioè il fatto che l'utente a un certo punto tra i vari certificati ne scelga uno quello non è per l'utente un obiettivo se non è che mi pongo come obiettivo ah senti adesso accendo il computer con lì scelgo un certificato da un elenco no se non siamo malati questa non è una cosa che ci poniamo come obiettivo l'obiettivo è ciò che ottengo al termine di un procedimento non lo chiamo processo per non confondermi con gli altri un procedimento che richiede più passaggi tutto questo è un unico caso d'uso visto dal punto di vista dell'utente non gli interessa più di tanto se c'è un bottone se c'erano due se è giallo se è verde ma quali sono i propri obiettivi che lui riesce a soddisfare o che è meglio che il sistema gli permette di soddisfare grazie alle funzioni che il sistema offre quindi dobbiamo cominciare a pensare a un sistema che soddisfa l'utente in varie modalità quali sono le varie cose che posso fare e devo provare a mettermi dal punto di vista dell'utente dal punto di vista dell'utente che ha un bisogno una necessità una richiesta non so come altro definire io dico spesso di senso compiuto cioè qualcosa che abbia senso vado sull'home page non è un'azione cioè distribuiamo la singola azione la singola interazione il singolo click la singola selezione rispetto al motivo per cui viene fatta quasi mai viene fatta fine se stessa questo è un po' il livello a cui ci dobbiamo porre quindi un caso d'uso non è facendo un esempio della didattica seguendo quello dei certificati un caso d'uso non è gestisco la mia carriera sul portale della didattica tocco ampio quella al massimo è un'area applicativa cosa vuol dire cosa posso fare beh posso richiedere una tele posso richiedere un certificato posso modificare il carico didattico posso iscrivermi a un esame eccetera eccetera le cose che posso fare le funzioni che il sistema mi offre e che per me hanno un significato posso cambiare la password ciascuno di queste di questi posso di cose che posso fare richiedono una ben determinata procedura quindi nessuna di queste si fa in un click solo ma è una sequenza di click click di interazioni diciamo più in generale che però è finalizzata a uno scopo quindi il caso d'uso inizia quando l'utente decide che vuole fare qualcosa e termina quando l'utente può andare a fare altro perché è soddisfatto quando l'utente ha raggiunto il suo obiettivo quando il sistema ha permesso all'utente di raggiungere il proprio obiettivo ovviamente ok poi questo è un obiettivo diciamo così personale e individuale dell'utente il fatto che l'utente persegue questo obiettivo e lo ottenga usando il sistema informativo è di beneficio anche agli stakeholder però gli stakeholder in qualche modo hanno un interesse più di staccato se io ho 100 utenti che fanno quella funzione sono contento perché ne ho avuto un risparmio ne avrò un guadagno avrò una maggiore efficienza avrò maggiori informazioni però lo stakeholder non è lì presente mentre l'utente interagisce non sta lì col fiato sul collo essenzialmente ha interesse a che quel caso d'uso si svolga si svolga bene e gli utenti in qualche modo raggiungono i propri obiettivi quindi ciò che deve fare il sistema è quello di permettere agli utenti di svolgere questi obiettivi noi descriveremo il sistema in termini di elenco dei casi d'uso che il sistema supporta la settimana scorsa nel definire i requisiti funzionali abbiamo detto che cosa il sistema fa rispondere alla domanda cosa adesso noi ci stiamo dando un modo per descrivere questo che cosa il che cosa il sistema fa lo decompongo in una serie di obiettivi che gli utenti si possono dare e quindi soddisfare interagendo con il sistema quindi nel descrivere questo io implicitamente descrivo come gli utenti lavorano col sistema stesso e quindi come che cosa il sistema dovrà fare quali sono poi le operazioni che il sistema deve compiere quindi in qualche modo se io dico che il sistema mi permette di stampare il certificato o meglio parlando di use case cerco di mettermi dal punto di vista dell'utente se dico che l'utente può usare il sistema per stamparsi un certificato da solo sto in qualche modo implicando che il sistema adesso questo cambio il punto di vista dovrà essere in grado di avere una serie di modelli certificati possibili poter permettere all'utente di scegliere avere la possibilità di generarli in pdf farteli scaricare una certa serie di cose quindi dicendo che cosa il sistema permette all'utente di fare oppure che cosa l'utente può fare col sistema sono frasi equivalenti sto anche in qualche modo implicando quali sono le caratteristiche tecniche le funzionalità tecniche che il sistema deve possedere e quindi in qualche modo stiamo decidendo quali sono i requisiti funzionali le funzioni che deve avere le pagine che deve avere i calcoli che deve fare le interrogazioni che deve fare quindi questa è un po' una vista di alto livello semplificata dal punto di vista dell'utente di quelli che sono appunto i requisiti funzionali sul progetto di un sistema il fatto che sia dal punto di vista dell'utente mi obbliga in qualche modo a non a non descrivere degli aspetti che sono puramente tecnologici non anticipare il progetto del sistema non dico come fa il sistema se sto parlando se il soggetto è l'utente sto descrivendo quello che fa l'utente e quindi ciò che mi interessa l'unica cosa che mi interessa nel descrivere il caso d'uso del sistema è qual è l'interazione tra l'utente e il sistema poi come il sistema a casa sua nelle sue macchine nei suoi server porti avanti l'operazione non lo descrivo perché non è qualcosa che l'utente vede è detto tra le righe e chiaramente poi il progettista tecnico riuscirà a coglierlo ma non è l'interesse del caso d'uso quindi i casi d'uso rappresentano dal punto di vista funzionale i comportamenti del sistema alcuni aspetti però non si possono modellare con i casi d'uso ad esempio in un caso d'uso le interfacce tra il sistema informativo ed altri sistemi informativi quindi lo scambio di dati di interfacce che non coinvolgo l'utente perché sono scambi o interazioni tra sistemi informativi diversi tra macchina e macchina e non lo posso descrivere così il caso d'uso è un utente che ha un bisogno e allora potrò descrivere tutte le funzionalità che il sistema ha che soddisfano bisogni dell'utente il quale può soddisfarli interviene con il sistema ma dov'è che il sistema magari deve fare anche delle altre cose che ne so il sistema ne dico una facile ogni 24 ore deve fare un backup dei propri dati su un altro server questo è il requisito funzionale una cosa che il sistema deve fare una cosa che cosa deve fare fare il backup però non lo posso descrivere dicendo un utente non c'è un utente presente alle 3 di notte mentre il sistema attiva la procedura di backup automatica qui queste interazioni che il sistema ha con altri sistemi informativi fanno parte dei requisiti funzionali perché sono cose che il sistema deve fare e se no è incompleto ma non si possono esprimere come casi d'uso perché non c'è nessuno che sta usando il sistema mentre lo svolge con la funzione non è una funzione esposta all'utente non è una funzione che è pensata per avere incontro un'esigenza immediata dall'utente così come la presentazione dei dati altri aspetti più interni e attenzione non è nella descrizione di un caso d'uso non entra in gioco il processo che qui è indicato come regola di business processo che cosa fa? ci dà delle regole che ci dicono tu puoi fare questa cosa solo dopo che l'altra è stata completata il certificato lo puoi fare? sì ma se sei iscritto o meglio se sei iscritto puoi fare certi tipi certificati se sei laureato quindi non più iscritto puoi fare altri tipi di certificati questa è un'informazione che noi modelliamo a livello di processo a livello di casi di usi semplicemente elenchiamo tutte le possibilità che il sistema offre non rappresentando più fregandocene del fatto che non tutte quelle funzionalità sono tutte sempre accessibili ma alcune hanno dei prerequisiti la puoi fare solo se prima hai fatto un'altra quindi è una visione di nuovo trasversale ortogonale rispetto a quella del processo il processo mi dà dei vincoli sulla sequenza con cui gli utenti anche fanno delle cose qui invece vado a descrivere gli utenti cosa possono quali bisogni possono soddisfare quindi quali operazioni di senso compiuto possono fare interagendo col sistema però è da una vista più esaustiva più completa ovviamente poi ciascuno caso di uno sarà accessibile ce lo potrò fare solo se il processo che mi porta fino a quel punto se il mio token riesce ad arrivare fino al punto in cui devo attivare quella funziona quindi sono collegate le due cose ovviamente come tutto qua stiamo sempre parlando dello stesso sistema informativo che è uno lo stiamo guardando da tanti punti di vista diversi un po' per volta ma dobbiamo sempre mantenerli collegati tra di loro nella nostra mente quindi con questa premessa questa è la definizione che diamo di caso d'uso un caso d'uso descrive un insieme di interazioni orientato verso un obiettivo interazioni tra attori esterni e il sistema il sistema considerato il sistema che stiamo modellando tra attori e sistema o attore e sistema a volte o molto spesso è uno solo l'attore quindi ogni caso d'uso parla del sistema parla di un attore che interdisce col sistema parla delle interazioni che questo attore ha con il sistema e in particolare queste interazioni devono essere orientate a un obiettivo dell'utente dell'attore quindi tutto ciò che avviene tra persone attore ed attore non rientra nel caso d'uso tutto ciò che avviene tra un sistema e un altro sistema non rientra nel caso d'uso qui è chiaro tra attori e sistema punto e solo se ho un obiettivo se clicco a caso non sto facendo a caso d'uso ok? a meno che il mio obiettivo sia cliccare a caso ci sono tanti modi di essere malati no? allora nel descrivere un caso d'uso innanzitutto dobbiamo identificare chi è l'attore o chi sono gli attori e tra questi sicuramente ce n'è uno che chiameremo attore primario in UML l'attore viene rappresentato attraverso una figurina di nomino stilizzato che c'è dentro Asta l'attore interagisce col sistema in un caso d'uso il sistema tende ad essere sottinteso non lo devo rappresentare l'utente interagirà col sistema in tanti modi diversi interagisce pigiando un bottone usando un computer usando un tablet inserendo una tessera passando sotto un metal detector le modalità di interazione sono tante in qualche modo il sistema deve avere delle interfacce utente che vanno a intercettare questa interazione per mettere all'utente di svolgere un'interazione noi indicheremo il sistema o parte del sistema solamente quando il sistema sarà molto complesso e allora vorremmo dire guarda questo insieme di casi d'uso è gestito dal modulo A e quest'altro insieme è gestito dal modulo B allora andiamo a identificare i sottosistemi con un rettangolo essenzialmente nel diagramma ma nella maggior parte dei casi è sottinteso e questo utente ovviamente arriva con un obiettivo quindi dovete proprio immaginare una persona io mi aiuto a immaginare una persona in pena proprio dentro di sé si sta rodendo perché vuole il certificato e fino a quando non lo ottiene non è soddisfatto allora va svolge una certa serie di azioni e poi alla fine raggiunge l'obiettivo nel momento in cui raggiunge l'obiettivo si libera da un peso non ci pesa più non gli interessa più ce l'ha aneddoto storico sapete perché i bancomat quando prelevate i soldi sputano prima la tesserina e dopo i soldi perché le persone perché le persone dimenticavano la tesserina dentro perché tu vai al bancomat per prendere i soldi quello è il tuo obiettivo e quindi mentalmente psicologicamente nel momento in cui hai i soldi in mano per te l'obiettivo è raggiunto il fatto che ci sia ancora la tesserina e la bancomat dentro è un a livello razionale lo sai ci ragioni ma emotivamente tu quel compito l'hai fatto adesso da quell'istante lì pensi ad altro pensi magari non farti fregare i soldi metterli in tasca e poi andare via perché il tuo obiettivo è vado non a infilare la tesserina nessuno ha detto vado a infilare la tesserina nel bancomat come obiettivo vado a prelevare i soldi stessa cosa quando fate fare benzina al distributore automatico vado a fare benzina quello richiede una certa serie di passaggi quindi proprio adesso poi perché la stampa del certificato non dà l'emozione del fare il pieno di benzina o altro nessuno di queste sono emozioni forti però c'è sempre una fase in cui l'utente si rende conto di un chiamiamolo bisogno un obiettivo svolge certe azioni e poi questo obiettivo si è raggiunto se va bene a volte l'obiettivo non viene raggiunto e quindi il caso d'uso si interrompe con un fallimento ah sì vado a prelevare arrivo lì mi dice il codice lui mi dice non ci sono più soldi oppure guasto mancanza di collegamento uno dei duecentomila messaggi di errore possibili allora anche in quel caso il caso d'uso termina nel senso che io non sto lì un mese ad aspettare perché non ho risolto il caso d'uso mi rendo conto che non posso in questo momento in questo contesto soddisfare il mio bisogno e allora dal mio punto di vista è interrotto quindi il caso d'uso normalmente termina con successo con soddisfacimento del bisogno dell'utente esiste una parola dei casi in cui il caso d'uso termina con un insuccesso e non è tutto perfetto al mondo ma è comunque la terminazione nel senso che l'utente in quel momento si rende conto che non lo faccio non lo posso fare peggio il sistema non me lo fa fare colpa del sistema non è colpa dell'utente ovviamente sempre però come dire se facciamo l'analogo psicologico di prima lo sa e quindi si allontana il sistema non interessa più adesso qui ho fatto l'esempio del banco da cui mi avvicino per fare una cosa ma in realtà se lo tradiamo più su sistemi informativi tradizionali io magari su quel sistema lo accendo alle 8 del mattino e ci lavoro per tutto il giorno ma normalmente non ho un obiettivo unico dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio il mio lavoro sarà fatto di molti obiettivi specifici all'interno magari sempre dello stesso sistema quindi non è tanto il fatto di accedere al sistema che inizia il caso d'uso non è che un caso d'uso inizia facendo il login nel sistema collegandosi al sito magari sono già collegato il caso d'uso inizia nel momento in cui io mentalmente mi predispongo e dico ok adesso faccio questa operazione adesso mando una mail adesso mando una mail vuol dire scrivo componi scrivo gli indirizzi scrivo l'oggetto scrivo il testo dimentico gli allegati e schiaccio in via e questi sono 6 passi che so che devo fare se voglio mandare la mail magari la mail ce l'ho aperta da 6 ore ma prima cosa stavo facendo stavo leggendo mail lo stavo rispondendo lo stavo cancellando o lo stavo archiviando cioè in ogni momento so che cosa voglio fare ok? il sistema mi deve supportare in questo ricordiamo che la tecnologia è sempre la stessa il sistema deve l'utente può ok? il sistema deve essere schiavo dell'utente i casi d'uso si concentrano su ciò che avviene nell'interazione tra i due cioè io non posso in un documento di specifica modellare o descrivere che cosa pensa l'utente no? o che cosa fa o che cosa deve fare e mica lo posso costruire non voglio neanche modellare che cosa fa il sistema perché quello sarà oggetto della fase di progettazione però immaginate di essere tra l'utente e il sistema e filmare e registrare tutto ciò che avviene tutti gli scambi di informazioni li chiamiamo interazioni le informazioni che l'utente fornisce al sistema e le informazioni che il sistema fornisce all'utente quindi un caso d'uso è definito in questo contesto un utente che ha un obiettivo è definito da quali sono le interazioni che il sistema permette all'utente di fare che l'utente può fare se nella videata non c'è un bottone l'utente non lo può schiacciare per dire una cosa banale e quindi il fatto che l'utente possa fornire quel dato schiacciare quel bottone fornire quell'informazione deve dal fatto che il sistema glielo permette gli prepara quel tipo di interazione ogni interfaccia l'utente permette all'utente di fare alcune cose e non altre l'interfaccia utente di questa cattedra mi permette di fare salire e scendere i due teli del proiettore o tutti e due o nessuno non è previsto che io faccia scendere solo questo e non l'altro per fortuna è sensato quindi c'è un caso d'uso accendi il proiettore e quindi fa scendere i teli c'è il caso d'uso spegni non c'è il caso d'uso accendilo parzialmente non lo posso fare il sistema non è pensato per permettermi di farlo quindi dobbiamo trovare una notazione che permetta di descrivere queste cose definire l'attore e definire soprattutto l'obiettivo che l'attore ha nel momento in cui usa il sistema per quel tragitto per quella piccola funzione la ragione per cui in questo momento sta usando il sistema il caso d'uso noi definiremo avremo due livelli come vi dicevo un livello grafico in cui riusciamo a catturare queste informazioni cioè chi è l'attore e qual è l'obiettivo che l'attore si può porre perché il sistema gli permette gli permette di svolgere quel compito e poi ci sarà una parte più descrittiva più narrativa in cui andiamo proprio a dettagliare la sequenza delle interazioni tra l'attore o gli attori del sistema e il sistema stesso nel descrivere la sequenza qui lo faremo essenzialmente direttamente degli elenchi puntati elenchi numerati per dire fai questo poi quest'altro poi quest'altro ci daremo il modo di scriverlo dobbiamo tenere conto anche di tutte le possibili varianti gli imprevisti se è arrivato fin qua non ci sono più soldi oppure ho perso la connessione quindi non posso darti i soldi non puoi completare il caso di questo oppure la variante sul certificato hai stampato il certificato dopo ne vuoi stampare subito un altro allora esiste la variante in cui ne stampo due anziché uno oppure dopo ne ho stampato uno se ne voglio stampare un secondo devo ricominciare da capo perché quel caso d'uso non prevede la variante di stampare due o stampa tre coppie o altre cose quindi in ogni momento mi chiedo a questo punto l'utente cosa fa e subito dopo il sistema cosa risponde e allora poi l'utente cosa fa così via quindi le interazioni io mi immagino a partire di ping pong tra l'utente e sistema la pallina o è di qua o è di là ogni volta tocca uno dei due rispondere agire e c'è il caso normale quello in cui lo scambio di informazioni di ping pong avviene in modo standard normale lo scenario principale lo chiameremo proprio così scenario principale di successo e poi ci sono tutte le varianti ma se l'utente si dimentica la password se il sistema ha un errore se a un certo punto si accorge che l'utente non è abilitato a quella funzione perché non ha pagato la terza rata delle tasse e allora in quel momento non puoi proseguire secondo lo scenario principale ma devi prendere una deviazione a volte recuperabile cioè una variante che ti permette lo stesso di arrivare al risultato a volte è irrecuperabile che ti fa fallire comunque il caso duro cioè alla fine l'obiettivo non viene raggiunto quindi noi abbiamo uno scenario principale nel quale normalmente si descrive qual è il modo normale il modo più semplice più diretto più lineare con cui l'utente raggiunge l'obiettivo il successo success lo si descrive come attraverso la spiegazione delle informazioni che si sono scambiate i due nei vari passaggi hanno due semplici un po' meno due o tre passaggi un po' meno complesso ne può fare di più per esempio della mail di prima ce ne sono sei di cui magari uno o due sono opzionali questo è lo scenario principale che arriva successo poi ci sono una serie di scenari collaterali delle deviazioni delle eccezioni o delle espensioni delle parti opzionali delle parti ripetute o degli errori che possono capitare dovuti che cosa? a un comportamento vuoi dell'utente o vuoi del sistema che non è quello previsto per il caso normale perché l'utente a metà ha cambiato idea oppure che perché a un certo punto l'utente può avere due scelte in quel momento le esprime e quindi a seconda della scelta il sistema risponde e prosegue in modo diverso pur cercando sempre di raggiungere lo stesso obiettivo non siamo a livello di scelte tra processi nel diagramma dell'attività in cui vado a fare proprio cose radicalmente diverse ma la stessa cosa la posso fare in due modi l'accordo del certificato a un certo punto potrà esserci ok hai scelto questo certificato cosa vuoi fare stamparlo subito o scaricartelo in pdf oppure vuoi che trovi andi via mail ecco allora l'obiettivo è sempre lo stesso il caso di un altro è sempre lo stesso a un certo punto c'è una piccola variazione per venire incontro a un'informazione in questo caso la preferenza che l'utente ha espresso e quindi descriveremo come elenco di punti questi scenari allora parte tutto ovviamente dall'attore un attore normalmente è un essere umano che in quanto umano è esterno al sistema e interdice col sistema un attore per essere attore deve interagire col sistema non basta che stia vicino a vedere o che stia nell'angolo a controllare che tutto vada bene o che sia uno stakeholder in generale chiamiamo attore colui con lei con loro che toccano il sistema poi ovviamente il sistema non è pensato nella fase di specifica per dire quali possono essere gli obiettivi di Giuseppe quelli di Antonio quelli di Francesco quelli di Luigi gli attori sono persone reali ma quando descrivo il sistema devo astrarre un attimo rispetto alle singole persone non posso neanche all'estremo opposto dire gli utenti o un utente generico perché se ti chiedo quali sono le operazioni che un utente può fare sul portale della didattica la prima cosa che mi chiedi è ma sì ma quale utente un studente iscritto un studente che si vuole iscrivere un studente laureato un professore la segreteria sono tanti tante persone diverse ciascuna delle quali svolge un ruolo e in funzione del proprio ruolo che gli viene in qualche modo garantito dalla password dalle credenziali che ha ha accesso a certe funzioni non altre sullo stesso sistema informativo cioè il sistema informativo ovviamente deve offrire le funzioni per tutti scusate l'ho detto male il sistema informativo deve poter offrire tutte le funzioni possibili e immaginabili a qualunque tipo di utente ma il sistema informativo deve anche sapere quali utenti hanno accesso a queste funzioni questi casi d'uso e quali altri utenti hanno accesso ad altri casi d'uso visto dal punto di vista dell'utente è come se ogni utente vedesse solo un pezzo del sistema anzi così è vede solo un pezzo del sistema il pezzo che il sistema gli permette di vedere grazie ai suoi permessi allora non ci interessa in fase di modellazione conoscere gli utenti uno per uno ma ci interessa conoscere quali sono i loro gruppi gruppi di utenti gruppi uniformi di utenti che possono fare tutti la stessa cosa noi li chiamiamo ruoli un attore gioca un certo ruolo svolge interagisce con il sistema in quel momento con un certo ruolo con il ruolo di studente e quindi in quel ruolo gli attori con il ruolo di studente possono fare certe cose accedere a certi casi d'uso quindi disegniamo l'omino ma quell'omino rappresenta uno qualunque di tanti utenti veri reali solamente nel momento in cui assumono quel determinato ruolo il sistema come fa a conoscere che un utente ha un certo ruolo beh perché in qualche modo la password che gli presenta le credenziali che gli presenta lo inquadrano in un determinato ruolo la relazione tra singoli utenti e ruoli è più complessa nel senso che la stessa persona fisica potrebbe avere in momenti diversi anche ruoli diversi tu magari sei su facebook sei un utente normale ma sei anche l'amministratore di un gruppo allora per certe cose quando sei al di fuori di quel gruppo sei un utente hai il ruolo utente e quando sei messo dentro il gruppo hai il ruolo amministratore quindi hai due ruoli diversi e quindi ti permette di accedere a tutti i casi d'uno dell'uno più tutti i casi dell'altro ruolo quando installate un programma in windows ad un certo punto viene fuori la finestra di protezione che dice questo qua esegui come amministratore questo comando lo vuoi eseguire come amministratore quindi temporaneamente assumi un ruolo di amministratore anziché quello di utente normale e quindi permette al sistema di fare cose diverse rispetto a prima che prima invece non avresti potuto fare ma qui ce l'abbiamo abbastanza nel modo di lavorare questo modello non mentale persona fisica può avere più ruoli in funzione delle autorizzazioni che ha in quel momento nei casi d'uso dicevamo c'è un attore sempre almeno uno che chiamiamo attore primario che è colui che in generale ha l'obiettivo si dà si dà l'obiettivo voglio prelevare i soldi li prelevo per me a me servono io li voglio io sono l'attore primario perché io ho l'obiettivo voglio stampare il certificato idem in moltissimi casi d'uso c'è un attore solo cioè i sistemi informativi quasi sempre sono pensati per essere usati una persona per volta proprio anche come interfaccia fisicamente non è che ci stiamo in due sulla tastiera ci diamo comitate sui denti ma in alcuni casi potrebbe essere necessario che un determinato caso d'uso richieda la collaborazione la compresenza non necessariamente fisica nello stesso luogo ma sicuramente sullo stesso sistema informativo di più di una persona quindi potremmo anche avere degli attori secondari che facilitano aiutano o intervengono per permettere la compresione del caso d'uso a un certo punto bisogna che un altro prema un bottone dobbiamo essere in due per fare quell'operazione di solito uno dei due è quello che ha l'obiettivo e l'altro è qualcuno che nel suo ruolo chiaramente in quel momento svolge un passaggio attenzione che qui siamo sempre nello stesso caso d'uso quindi se io immaginate un processo non so quello di richiesta di tesi fatto sul portale della didattica allora tu inserisci una proposta di tesi la domanda di laurea è più attinente l'avete fatto da poco inserisco la richiesta di potermi laureare schiaccio invia registra poi il professore dall'altra parte la conferma questo caso non è un cargo di attore primario e attore secondario perché non siamo insieme sul sistema informativo nel momento mettetevi dal punto di vista vostro dell'obiettivo quando avete fatto la domanda di tesi qual era il vostro obiettivo faccio la domanda quando tu hai schiacciato invia la domanda non so come si chiami quel bottone ed è a posto non sei rimasto davanti al computer in ansia aspettando che il professore schiaccesse il bottone in tempo reale magari che sa dover questa è una sequenza a livello di processo questa qua della domanda di tesi un processo in cui un'attività un'azione in cui l'utente fa la domanda un'altra azione in cui il professore conferma la validità della domanda ma sono due azioni separate il token in mezzo può stare a mollo per delle ore o dei giorni così ragionavamo quando invece parliamo di casi d'uso sono cose che si devono concludere sul momento non esiste un caso d'uso che dure 6 ore forse sì non so spero di no sono azioni pacchetti di interazioni più limitati nel tempo quindi scambi di questo genere di responsabilità vanno bene a livello di processo ma non più di caso d'uso il caso d'uso si deve concludere o con un fallimento o con un successo non può concludersi dicendo e adesso aspettiamo perché se no ho messo male l'obiettivo non è un obiettivo che posso concludere in un'interazione con il sistema in un solo caso d'uso in una sessione di lavoro con il sistema quindi l'obiettivo in quel caso è invio la domanda punto è un caso d'uso corrisponde a un caso d'uso l'attore secondario quindi è una persona che contestualmente nello stesso tempo nello stesso lasso di tempo relativamente breve interagisce anche lui con il sistema se è un attore deve toccare il sistema non basta che sia lì sia presente o interagisca con l'utente mi dia la pacca sulla spalla o mi dia il modulo da firmare o mi metta un timbro no deve interagire anche lui col sistema con la stessa interfaccia mia o con una diversa è uguale pensiamo quando pagate al supermercato siete in due che interagite col sistema no se paghi in contante no c'è solo il cassiere che interagisce col sistema se paghi col banco ma siete in due il cassiere e tu che dici il PIN allora in quel caso abbiamo un caso d'uso che è fare il conto il cui attore primario è il cassiere o la cassiera nel momento in cui si arriva al pagamento se l'utente sceglie di pagare via bancomat allora in quel momento l'utente è un attore secondario il cliente in questo caso il supermercato è un attore secondario perché anche lui interagisce col sistema schiaccia i suoi bei numerini e il caso d'uso non si completa se tutti e due non fanno la loro parte cioè che se non schiacci i numeri giusti e se tu non digiti il PIN giusto ma servite entrambi contemporaneamente sullo stesso sistema informativo in quel caso con due interfacce diverse la tastierina del PIN che è il tuo è diversa da quella che è lui non è obbligatorio che le interfacce siano diverse spesso lo è in questo caso sono tutti e due nello stesso luogo non è detto che debba esserlo sicuramente devono essere nello stesso tempo fare le cose insieme poi fare le cose nello stesso tempo in luoghi diversi è un pochino più difficile coordinarsi però a volte succede adesso non mi viene un esempio specifico però a volte qualche servizio clienti tu telefoni ti dice ma c'è questo qua non funziona e dall'altro dall'altra parte dice si sto guardando e tu hai aperto il sito dal tuo lato lui ha aperto il sito che veramente vedrà cose diverse dal suo lato e state interagendo insieme su una procedura adesso mi inserisco il codice tu gli inserisci l'altro vede e cose di questo genere allora questo è un caso in cui io ho attori primari e attori secondari persone diverse tendenzialmente con ruoli diversi che agiscono contemporaneamente all'interno del stesso caso d'uso finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di uno solo di questi il caso d'uso è di uno l'attore primario è uno solo rinno e domanda dimmi una videochiamata una videochiamata è un caso d'uno del sistema di videoconferenza cioè se io ho un sistema di videoconferenza una delle cose che gli devo offrire è la possibilità di chiamare in questo caso tu dici la videochiamata se non sono troppo narcisista la faccio con qualcun altro non la faccio da solo e quindi avrò almeno due utenti che interagiscono con il sistema si ci può stare dove ho l'attore primario che è quello che fa la chiamata fa il numero sceglie i contatti eccetera l'attore secondario che deve semplicemente rispondere e il sistema in mezzo a che cosa fa però sono rari la maggior parte dei sistemi informativi che abbiamo l'attore diciamo il lavoro lavorare con il sistema informativo è un lavoro di tipo solitario io davanti al computer davanti all'interfaccia l'esempio dell'autostrada io vado in macchina pago il casello è una persona che infila il bancomat o la via carne o la tesserina magari in macchina siete in 5 ma gli altri non sono attori secondari neanche se il sistema informativo sa che sono lì perché se non interagiscono materialmente col sistema non li chiamiamo attori dimmi possono essere due attori primari se hanno un gol comune e lo danno a sorgere per forza insieme due attori primari non riesco a farmi venire in mezzo in banca per un conto interessato e il vero primario insieme per eseguire un'operazione come un'operazione allora in quel caso lo ripeto solo per registrazione l'esempio potrebbe essere due persone che vanno in banca e devono aprire un conto cointestato quindi in quel caso non ce n'è uno che è più primario dell'altro secondo me quello è un caso dell'imbiegato di banca però che lui deve fare aprire il conto e loro i due correntisti sono attori secondari perché poi è lui che farà la maggior parte del lavoro lo fa su un bisogno che non è suo no? non è che al mattino vede uno per strada e dice adesso vieni che apri un conto perché io mi sento un bisogno dentro però lo fa su richiesta di persone che entrano parlano con lui e dicono voglio aprire un conto questa è una comunicazione che non c'entra con i casi d'uso non c'entra con i sistemi informativi è al di fuori il sistema informativo quella comunicazione fa sì che l'impiegato a questo punto dica ok volevo andare a prendere caffè ma so che sarò qua per i prossimi 20 minuti perché devo aprire il conto che richiede una serie di 94 passaggi alcuni dei quali coinvolgono anche gli utenti dimmi mentre nei sistemi informativi dei videogiochi penso a multiplayer sono più attori addirittura il numero dei attori in varia in caso da partita a partita hanno un obiettivo che è contrastante che giocano contro e quindi però comunque sono in due attori sono attori in caso dei videogiochi multiplayer quindi ho più persone che giocano in qualche modo lo stesso gioco a ciascuna casa propria sono tanti attori diversi ognuno col proprio obiettivo non è che collaborano a un caso d'uso unico tutti insieme sono indipendenti in realtà sono uno contro l'altro in quel caso lì e se fossero in squadra io non credo che una partita un gioco di squadra sia un unico caso d'uso ad esempio i giochi di calcio una partita se giochi in squadra la loro obiettivo è il gol no ma non si conclude così nel senso che hai gol formi la squadra cioè il è più piccolo non è che dico gioco oppure facciamo un esempio più semplice poi torniamo lì un gol non è mi collego a facebook quello è il contesto semmai all'interno del quale si possono luogli tanti gol separati leggo scrivo rispondo faccio like eccetera ogni operazione di questo genere facebook è un esempio troppo semplice perché la maggior parte dell'interazione si risolvono con un click massimo due scrivo guardo invio quello del genere però e quindi anche in un gioco multiplayer c'è il momento magari vivo della partita allora uno potrebbe pensare di avere non riesco a vedere come attori attori primari e molti ciascuno gioca ha come obiettivo quello di guidare il proprio giocatore a fare il gol lo vedrei così perché descrivo le interazioni che quell'attore fa col sistema il fatto che io possa tirare un calcio in quel momento non dipende da che cosa sta facendo l'altro ok quindi non sta collaborando al raggiungimento del mio obiettivo che è calciare la palla in poca vabbè questo qua è solo una serie di domande che aiutano a identificare quali sono gli attori quello direi che abbiamo già parlato ricordiamoci sempre quali sono tutte le persone che interagiscono col sistema questo è il criterio base deve interagire con il sistema l'obiettivo quindi dicevamo attore obiettivo che obiettivo si dà all'attore che è poi il motivo per cui il caso D'Uso esiste l'obiettivo deve essere qualche cosa che abbia un certo valore importanza per l'attore quindi ad esempio diciamo prima premo il bottone non è un gol inserisco il ping non è un gol prelevero i soldi è un gol è un obiettivo gioco una partita online non è un obiettivo è un'attività più complessa che al suo interno ha vari obiettivi i quali tra l'altro sono regolati da un processo cioè la partita inizia finisce poi ci sono i momenti in cui vai a vedere punteggi cambi la squadra 20 giocatori e quindi in ogni momento a seconda del processo a cui è arrivato il sistema puoi fare certe operazioni piuttosto che altre e puoi decidere di farle o puoi decidere di non farle quindi sono obiettivi che ti puoi imporre oppure no e ciascun obiettivo io in termini di tempo me lo immagino di qualche minuto o meno di solito c'è una certa relazione tra questi obiettivi che mi posso fare che mi posso porre e le azioni dell'attivity diagram se un'azione dell'attivity diagram dice che a un certo punto l'utente inserisce i propri dati anagrafici quell'azione lì può corrispondere effettivamente a un caso d'uso quindi immaginiamo che un caso d'uso in qualche modo non è una azione uno a uno perché poi vedremo delle eccezioni però nelle azioni che abbiamo descritto nel modello di processo e che richiedono l'interazione dell'utente quelle che non metteremo nella colonna sistema informativo ma mettiamo nella colonna dell'utente 1 dell'utente 2 dell'utente 3 eccetera allora quelle generano per sapere quali sono i casi d'uso andiamo a vedere lì partiamo da lì poi non sono le stesse per varie ragioni la prima ragione è che nei processi noi abbiamo le colonne che chiamiamo responsabilità e qui le chiamiamo attore nel caso del processo l'importante è sapere di chi è la responsabilità che un'azione venga svolta nel caso del caso d'uso voglio sapere qual è la persona qual è il ruolo che vestito ha la persona in quel momento che la usa non chi è responsabile affinché lui la faccia sono due punti di vista leggermente diversi così come un'azione potrebbe essere aggiornare il tuo profilo però aggiornare il tuo profilo può svilupparsi molti casi d'uso diversi vuol dire aggiornare il profilo vuol dire cambio la password oppure cambio l'immagine oppure modificano le informazioni eccetera eccetera oppure collego un altro profilo social dando le credenziali quello che volete sono tutte operazioni che ricadono la sua attivazione aggiornando il tuo profilo dove a livello di processo non mi interessa andare a distinguerle mentre a livello di caso d'uso si perché l'utente può fare tante cose diverse ciascuna è abbastanza indipendente dalle altre e che si può concludere spartamente dalle altre quindi normalmente l'obiettivo dei casi d'uso è più concreto più specifico rispetto all'azione del processo però per definire quali sono questi obiettivi un buon modo è andare a vedere le varie azioni del processo e chiederci e qui l'utente questa cosa come la fa in qualche modo l'obiettivo deve rispondere a questa domanda io come attore come studente come professore come iscritto al gioco come correntista voglio svolgere questa azione affinché dopo che ho svolto questa azione abbia qualcosa in più di prima abbia qualche valore però ho dei soldi in tasca in più ho presentato questa domanda ho il certificato pronto eccetera quindi noi quando parlavamo del processo dicevamo mi interessa ciò che lascia traccia nel sistema sì nel caso di uso questo lascia traccia anche nell'utente anche se il sistema non lo può vedere però l'utente dopo sa che l'ha fatto è più contento si rende conto di aver fatto questa operazione quello che interessa forse meno all'utente è to do something so che devo fare qualche cosa è una sequenza di azioni di operazioni che mi viene imposta dal sistema ma io non scelgo di fare quei passaggi perché voglio fare quei passaggi accetto mio malgrado di svolgere quei passaggi per poter raggiungere l'obiettivo se avessi un sistema informativo che mi legge nella mente quando dico voglio questo lui me lo ha già fatto io sarei più che felice non mi mancano le interazioni col sistema sono un male necessario per permettere a quell'ottuso del sistema di sapere che cosa voglio e acquisire le informazioni che io ho ben note in mente ma lui poveretto non lo sa quindi il focus non è sulle azioni fatte dal sistema ma sul valore che c'è per l'utente questo è l'esempio classico del bank oltre agli utenti dicevamo ci sono anche gli stakeholder che è importante ricordare perché sono loro il motivo per cui il sistema informativo esiste si esiste per gli utenti ma perché fornendo un servizio degli utenti miglioro qualche valore per il stakeholder allora nella descrizione narrativa dei casi d'uso noi identificheremo a un certo punto gli stakeholder tra i vari punti che dovremmo elencare per fare una descrizione nel caso d'uso uno dei punti da elencare sarà proprio gli stakeholder ma non confondiamoli semplicemente con gli attori perché se lo stakeholder interdice anche a volte lo stakeholder e l'attore coincidono a volte lo stakeholder può essere un attore secondario a volte invece può essere semplicemente una persona interessata al buon esito ma non interviene nell'esecuzione del caso d'uso stesso in nessun modo ovviamente in qualche modo dobbiamo tenere presente nello sviluppare il caso d'uso qual è il beneficio che gli stakeholder possono avere cioè io sono interessato che questo venga fatto perché qual è il mio beneficio allora se per l'utente un beneficio immediato è il fatto di togliersi un peso dallo stomaco ho risolto questo uno stakeholder che può includere anche l'utente ha bisogno di avere un beneficio quantificabile maggiormente un'altra informazione che ci permette di definire i casi d'uso che quindi entrerà nella nostra narrativa è l'ambito lo scope questo ricade un discorso più generale sullo scope che dicevamo qualche lezione fa cioè devo sempre capire dove fermarmi quali sono non solo i casi d'uso rilevanti per l'utente che possono essere tantissimi ma quali sono i casi d'uso rilevanti per l'utente di responsabilità di questo pezzo di sistema informativo che sto descrivendo adesso ricade all'interno del sistema informativo che sto descrivendo che sto modellando oppure qualcos'altro che ci deve essere ma in questo momento non mi interessa non interessa a me non interessa questo appalto questo contratto questo sistema perché il rischio di mettersi dal punto di vista dell'utente non vedere più i confini tra le varie parti del sistema giusto l'utente non lo sa l'utente vede tante cose e poi magari non si rende conto che alcune cose sono svolte da un sistema altre cose sono svolte da un altro sistema perché magari le interfacce sono unificate o collegate quindi quando faccio un periodo devo sempre capire qual è l'ambito nel quale questo si sviluppa nel caso questo vale ovviamente per sistemi informativi molto grandi che siano fatti di vari moduli di varie sottofunzioni se è un sistema informativo unico che svolge non solo la funzione non siano solo le funzioni allora questo è scontato che sia lui ok saltiamo un attimo le modalità con cui definire lo scop che insomma per i tipi di sistemi informativi che abbiamo noi è meno importante ecco voglio arrivare finalmente alla rappresentazione grafica dei casi d'uso è molto semplice ho un attore ho un insieme di attori che sono rappresentati tramite quegli omini sotto l'omino metto la definizione del ruolo che assume quell'attore quell'utente quell'utente in quel momento agisce come customer come cliente e come cliente può accedere a questi tre casi d'uso ricordate la frase che diceva prima io come cliente voglio fare delle cose per prelevare denaro per visualizzare il saldo per caricare il cellulare quindi ciò che scrivo in questo ovale ciascun ovale rappresenta un caso d'uso ciò che scrivo dentro questo caso d'uso è l'obiettivo che quel tipo di cliente quel tipo di utente di attore si può porre nell'unale del sistema il mio sistema informativo ti permette di soddisfare questi tuoi bisogni quindi proprio che grammaticalmente pensate alla frase io come cliente voglio fare questo voglio e lasciamo sottintesa la parte devo interagire col sistema devo fare questi passaggi lasciamo non ci interessa ma ci interessa il perché li voglio fare quindi quali sono tutte le maturazioni di senso compiuto che il cliente in questo ruolo può compiere sul sistema questo è ovviamente rappresentabile facilmente tramite c'è un tipo di diagramma appogito che si chiama use case diagram diagramma dei casi d'uso come vedete ogni tipo di diagramma ha il suo bagaglio di iconcine diverso nel caso dei diagrammi di casi d'uso l'iconcina principale è quella dell'omino attore 0 attore 1 e così via e poi posso indicare i vari casi d'uso a cui diversi attori possono avere accesso quindi posso avere lo studente posso avere il professore e poi posso avere casi d'uso diverso per portare avanti gli esempi di prima possiamo avere il caso d'uso in cui faccio la richiesta io come studente voglio usare il sistema informativo per fare richiesta di tesi e il professore perché gli è arrivata la mail di notifiche l'avviso lo studente è già la diciottesima volta che gli telefona vuole usare il sistema informativo per confermare la richiesta di tesi e quindi questo l'utente con ruolo di studente può accedere a questo caso d'uso l'utente con ruolo di professore può accedere a quest'altro caso d'uso possono esserci poi altri casi d'uso che so quello che mi viene in mente adesso è consulta l'orario delle lezioni che possono essere accessibili a vari tipi di utenti e quindi questa è una linea semplicissima il cui significato è gli utenti di questo tipo hanno accesso a questi casi d'uso gli utenti di questo tipo hanno accesso a questi casi d'uso individualmente separatamente l'uno dall'altro il fatto che questo consultorario delle lezioni sia collegato a due ruoli diversi due attori diversi significa che sia gli utenti con un ruolo studente sia gli utenti con un ruolo professore possono entrambi accedere a quella funzionalità separatamente non sono attori multipli oggi non lo vediamo come modelliamo gli attori multipli lo faremo più avanti tanto per non confondere il stroppo quindi i diagrammi di questo genere sono molto semplici se il sistema fosse piccolo semplicemente dobbiamo elencare il tipo di utenti che abbiamo elencare tutte le funzioni espresse come obiettivi che gli utenti si possono dare e collegarli dicendo chi può fare che cosa dietro ciascuno di questi casi d'uso ci vuole poi ovviamente una descrizione perché detto così fare richiesta di tesi cosa implica chi sono gli stakeholder quali sono i passaggi quali sono i casi in cui può avere successo e i casi in cui invece quella funzione può fallire lo devo spiegare e quello facciamo attraverso come dicevo la narrativa già che ci siamo che abbiamo aperto l'asta volevo solo aggiungere un elemento che poi sulle slide c'è più avanti ma approfittiamo adesso che ci sta giusto in questi pochi minuti sugli attori nel definire gli attori in qualche modo ci stiamo chiedendo stiamo ragionando su quali siano le categorie di utenti che utilizzeranno il sistema e ogni categoria di utenti è rappresentata da un ruolo diverso abbiamo già detto che ogni utente che ogni utente specifico potrebbe anche assumere più di un ruolo potrebbe anche avere il diritto di assumere più di un ruolo una cosa che stiamo dando per scontato ovviamente è che il sistema sia in grado di riconoscere che tu sei un studente o che sei un professore quindi il fatto stesso che ci sia scritto che questo caso d'uso è accessibile agli utenti tipo studente vuol dire che prima il sistema deve avverti riconosciuto come studente quindi dentro il caso d'uso non devi più fare login perché è una cosa che deve essere già stata fatta prima a livello di processo perché altrimenti possiamo sempre immaginare che ci sia un utente generico anonimo o generico che si approccia al sistema ma il sistema non è ancora riconosciuto e quindi non è in grado di attribuirgli dei ruoli specifici poi l'utente generico ovviamente a un certo punto potrà fare il login e allora nel momento in cui fa il login si trasforma da utente anonimo o meglio continua a essere utente anonimo ma in più si veste anche di altri vestiti di altri cappelli di altri ruoli perché essendosi riconosciuto il sistema gli attribuisce altri ruoli quindi può giocare nel ruolo di anonimo nel ruolo di studente solo dopo che il sistema l'ha riconosciuto quindi abbiamo varie famiglie di utenti in alcuni casi queste famiglie di utenti questi vari ruoli sono molto legati l'uno all'altro ad esempio possiamo avere lo che ne so studente in tirocinio o in Erasmus per dire fammi questo cioè quando tu sei in Erasmus quindi hai comunque accesso a tutte le funzionalità che avevi ma in più ne hai delle altre tipo com'è che si chiama quella cosa lì learning agreement modifica ipotizzando che sia automatizzata questa parte non lo so ma non mi interessa allora lo studente in Erasmus non è una categoria separata dallo studente è un sottoinsieme l'insieme degli studenti delle persone degli utenti che possono assumere il ruolo studente in Erasmus è un sottoinsieme stretto dell'insieme degli utenti delle persone che possono essere studenti allora in questo caso lo possiamo anche indicare conviene indicarlo attraverso il simbolo di generalizzazione lo stesso che usiamo per le classi l'ereditarietà lo studente Erasmus è uno studente è un tipo particolare di studente e quindi con una freccia sola io capisco che questo qui eredita tutto ciò che può fare l'altro quindi lo studente Erasmus fa questo ma automaticamente poiché è uno studente è un tipo di studente appartiene sottoinsieme degli studenti può anche fare richiesta tese può anche consultare orario delle lezioni può fare tutto ciò che fa studente perché lui è uno studente e in più ha delle proprietà in più particolari che gli permettono di fare delle cose in più quindi quando si vanno a definire quali sono i ruoli del sistema spesso si fanno delle piccole tassonomie dei piccoli alberelli di utenti e ruoli usando la generalizzazione utente registrato utente premium utente normale e si collegano in questo modo e poi si attribuiscono i vari casi di uso ciascuno al proprio livello di permesso di privilegio questa è la video di notazione ovviamente lo sviluppiamo meglio poi tra gli esempi oggi siamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti